andiamo ora a vedere questo strumento immenso che è chat cpt chat cpt è uno strumento che permette l'intelligenza artificiale che ci permette di avere risposte avere idee e ci permette anche di creare appunto descrizioni per i nostri libri e quant'altro è uno strumento molto interessante appunto perché ci va a togliere del lavoro e va a sostituire quello che può essere un copywriter anche se mi avviso un bravo copywriter non può essere sostituito da una macchina se la macchina viene guidata da una persona che non sa i prompt da dargli e proprio per questo motivo vedo tanta tanta confusione in merito a chat cpt tante persone che mi chiedono l'età si può usare però attenzione perché amazon banna amazon penalizza indipendentemente da tutte le leggende che si vanno a narrare la verità è che siamo penalizzati nel momento in cui non sappiamo utilizzarlo e soprattutto con i prompt che vi do io vedrete che sarà molto semplice creare delle descrizioni che vanno molto bene ma soprattutto delle descrizioni che non sono uguali identiche a quelle che creano tutti quelli che stanno utilizzando chat cpt perché come abbiamo detto nelle varie visive e nelle classi non possiamo utilizzare un robot con la mentalità da robot la macchina funziona se dietro c'è un cervello funzionante che soprattutto sa che cosa sta facendo non possiamo andare utilizzare delle cose preparate uguale per tutti perché ovviamente questo ci porta poi ad essere uguali a tutti quindi è importante che ognuno metta un pizzico della propria fantasia del proprio ingegno per creare dei prompt che abbiano senso in questo caso cosa cosa diciamo abbiamo un libro un libro che ci parla non lo so mettiamo continuiamo con il nostro esempio che ho registrato ieri dell'insalata quindi l'insalata e abbiamo creato le cover e cosa facciamo adesso semplicemente questa questa cover ha bisogno questo libro ha bisogno di una descrizione è chiaro che se io vado a scrivere qui creami una descrizione su un libro dell'insalata cosa succederà che una volta che gli scrivo questo e faccio invio chat cpt mi andrà a scrivere una descrizione mentre che scrive io vi faccio una precisazione chat cpt è gratuito a mio avviso è molto interessante utilizzare la parte a pagamento che dovrebbero essere 10 dollari al mese se non ero l'abbonamento attivo da diversi mesi non non ricordo ma mi pare proprio di sì perché questo ci permette di avere la il modello 4 attualmente di chat cpt possiamo vedere che io gli ho detto semplicemente creami una descrizione su un libro dell'insalata e chat cpt mi sta creando un libro su la descrizione di un libro sull'insalata mio qua fondamentalmente sono stato molto generico e viene detto proprio viene scritto di chi è questo libro quindi possiamo vedere che già ci dice l'autrice valentina verde vi invita a scoprire il meraviglioso mondo delle insalate un angolo spesso trascurato nella gastronomia ok ha creato un titolo da sé e quant'altro cosa succede ora che noi abbiamo questa questo prompt che gli abbiamo dato è un prompt molto molto generico ok abbiamo finito la descrizione possiamo copiarla incollarla buttarla su amazon no assolutamente perché questo non va a descrivere il nostro libro quindi dobbiamo andargli a dare più dettagli quindi quello che dobbiamo fare ho un libro che parla dei vari tipi di insalata e che è destinato a chi è destinato quindi dobbiamo dire a chi è destinato il tipo di prodotto che abbiamo descriverlo il più possibile e poi una volta che avremo fatto questo vi faccio vedere una cosa molto interessante da fare che va a cambiare totalmente la descrizione quindi ricordiamoci sempre come dicevo prima che questo strumento è una macchina le macchine vanno utilizzate con il cervello non come macchine non vale prendere cose come quello che sto facendo io prenderlo uguale identico e farlo uguale identico perché perché quello che sto facendo io in questo momento magari può essere migliore reso migliore in un altro modo può essere messo sotto un altro punto di vista ovviamente questo dipende da cosa dipende da noi ma soprattutto dal prodotto che dobbiamo andare a sponsorizzare quindi è un libro che parla dei vari tipi di insalata e che è destinato ai alle donne anzi alle donne over 50 il libro parla di tutti i tipi di insalata verde solo quella verde e perché adesso metto una cosa detta così perché ovviamente non so se è vero quella perché è il tipo che aiuta di più a digerire ora vabbè sto dicendo cose che ovviamente non sono vere probabilmente però non è questo che quello che voglio farvi passare proprio l'idea che c'è dietro a tutto questo i tipi di insalata descritti nella nel libro sono i seguenti iceberg vediamo un po adesso gli do gli do altri due cerco insalata verde anzi tipi di insalata verde ok tipi di insalata verde lattuga romana vediamo a scarola ok mettiamo scarola e lattuga romana lattuga romana il libro parla della storia di queste piante e di come coltivarle al meglio ovviamente non sono piante ma lasciamo così abbiamo detto a chi è destinato quindi il tipo di storia stiamo mettendo più dettagli possibili inoltre indica tramite l'utilizzo dei bullet point i cinque benefici che il lettore avrà una volta che acquisterà il mio libro l'autore del libro è andrea b marshall mettiamo e cosa possiamo dirgli ancora possiamo dirgli che il libro è in vendita esclusivamente su amazon la descrizione non deve essere più lunga di 50 secondi di lettura ok quindi noi siamo andati a dargli molti più dettagli rispetto a quello che siamo partiti che creiamo in una descrizione sul libro dell'insalata siamo andati a dirgli ho un libro che parla dei vari tipi di insalata che è destinato alle donne a aver 50 quindi tipo di libro ma soprattutto destinazione ok il libro parla di tutti i tipi di insalata verde solo quella verde perché il tipo di insalata che aiuta di più a digerire i tipi di insalata descritti nel libro sono i seguenti iceberg scarola e lattuga romana il libro parla della storia di queste piante di come coltivarle al meglio inoltre indica tramite l'utilizzo dei bullet point i cinque benefici che il lettore avrà una volta che acquisterà il mio libro l'autore è andrea b marshall e libro in vendita esclusivamente su amazon la descrizione deve essere più lunga di 50 secondi di lettura e il testo è di 180 pagine ok quindi abbiamo fatto una descrizione noi già di quello che è il prodotto qui non abbiamo messo il titolo quindi mi fermo mi sono accorto dell'errore vado a copiare il messaggio che ho creato lo incollo e qui vado a scrivere il titolo e insalata verde la cura per la digestione anzi digeriamo meglio mettiamo una migliore digestione io già so che una volta che pubblicheremo queste lezioni saranno il nuovo mass divisione non sarà più il bicchiere ma sarà l'insalata verde ok quindi qua adesso ho creato ovviamente un titolo che è creato così al volo però andiamo a capire che cosa può fare titolo insalata verde una migliore digestione andrea b marshall presente insalata verde una migliore digestione un libro pensato per le donne over 50 che vogliono scoprire benefici delle insalate verdi focalizzandosi su iceberg scarola e lattuga romana il testo esplora la storia di queste piante e i segreti per coltivarle i cinque benefici principali elencati tramite bullet point renderanno questa lettura indispensabile ok cosa succede che il vediamo che la descrizione innanzitutto è venuta troppo troppo corta ma poi va a dire che i cinque benefici principali elencati tramite bullet point renderanno questa lettura indispensabile questo perché perché ha capito che il libro ha i bullet point al suo interno e mentre leggevo prima già mi è venuta in mente questa cosa quindi vado di nuovo a copiarmi il prompt che gli ho dato e gli dico inoltre crea crea tu cinque cinque bullet point con i cinque benefici i cinque benefici che il lettore avrà una volta che acquisterà il libro ovviamente qui adesso io non so che cos'ha il mio libro ma se avessi il mio libro potrei andargli a dare ad esempio alcuni titoli dei capitoli e renderli più approfonditi oltre questo la descrizione a mio avviso è troppo corta quindi al posto che 50 secondi gliela metto da 100 secondi di lettura e il testo del libro qua mettiamo è di 180 pagine ok quindi andiamo a creare una descrizione di questo titolo di questo tipo quindi vediamo cosa ci dice titolo insalata verde una migliore digestione andiamo a vedere un po come cambia la nostra descrizione ok diciamo che già notiamo una grossa differenza da questa questa descrizione a quella che ha creato prima che era 50 secondi con i bullet point che non aveva capito che dovevano essere bullet point all'interno della nostra descrizione ma vedo che c'è ancora qualcosa che non mi piace in questo caso cosa c'è che non mi piace il fatto che parla in linea generale a un pubblico e non parla cioè parla in linea generale qui acquistando il libro i lettori potranno sperimentare questi cinque benefici ok qui adesso cosa gli dico non parlare in generale ai lettori ma parla al lettore che sta vedendo la descrizione utilizza quindi il tu e vediamo un po che cosa ci combina scopri vedi già che al posto che andrea presente bla 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 scopri bla 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 il libro pensato per te donno over 50 che desideri sperimentare i benefici delle insalate verdi per migliorare la tua digestione ok quindi stiamo già andando a modificare ancora perché prima stavamo parlando in linea generale adesso stiamo parlando a te ok a te che stai leggendo e quindi il lettore in questo caso si sentirà molto più tirato dentro alla descrizione ok abbiamo nuovamente la nostra descrizione quello che possiamo fare ancora e rendere e questa è la la chicca finale una volta che saremo soddisfatti della nostra descrizione dargli un ultimo prompt che il prompt che io sto utilizzando da e sto testando da diverso tempo che a mio avviso è quello che poi rende il tutto molto molto più interessante in realtà sono due le cose da fare e ora te le mostro primo utilizza questa descrizione ma rendila più salesy salesy vuol dire che è più da vendita ok quindi più convincente e utilizza qualche emoticon ok andiamo a vedere come si modifica il tutto ovviamente questi sono degli esempi che ci va a fare con l'emoticon però non dobbiamo andare a utilizzare tutte le emoticon che ci va a dare però possiamo vedere già che va ad indicare va a renderla diversa la rende più salesy perché perché ci va a dare dei termini come speciale te miracolosi addirittura no fantastici ce li rende maiuscoli quindi questo già fanno cadere sull'occhio magari possiamo utilizzare al posto che il maiuscolo potremmo andare a utilizzare il bold quindi potremmo andare a utilizzare il il grassetto per le nostre descrizioni però capisci bene che utilizzare chat cpt così è molto diverso da utilizzare chat cpt per un libro di questo tipo rendimelo cioè creami la descrizione perché quello possono fare tutti quello che possono fare un po meno tutti utilizzare il cervello per creare descrizioni e guidare la macchina ok o meglio possono farlo tutti ma non tutti hanno la voglia la pazienza di imparare a utilizzare questo strumento che è uno strumento veramente forte che permette e ci permette di andare a creare delle descrizioni che sono killer perché sono descrizioni che vanno molto molto forte ok una volta che saremmo soddisfatti della nostra descrizione la prenderemo la copieremo la incolleremo su amazon ce la salveremo in un file e l'andremo a pubblicare mi raccomando ricordatevi sempre che siete persone e dovete utilizzare le macchine a vostro vantaggio e non utilizzare con a cervello spento le cose perché viene insegnato a far così ok è importante utilizzare in ogni aspetto del publishing qualche aggiustamento e qualche personalizzazione per rendere i nostri prodotti unici e diversi dagli altri